Nella giornata di ieri a Pozzuoli, gli uomini della Guardia Costiera, guidati dal tenente di Vascello, Andrea Pellegrino, hanno effettuato una serie di sequestri e denunce ai danni di alcune imbarcazioni in sosta abusiva. Si trattava, per meglio dire, della presenza di decine di barche ancorate senza alcun tipo di permesso in luoghi dove la sosta non è consentita. Abbiamo riscontrato la presenza irregolare di unità di porto in luoghi non consentiti all'interno di quello che è lo specchio acquioportuale. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione e la liberazione di questi spazi da queste unità abusive sono stati individuati in gran parte dei casi legittimi proprietari e denunciati dall'autorità giudiziare. Decine di unità navali di piccole e medie dimensioni lasciate e ormeggiate nel porto di Pozzuoli per giorni e scovate grazie a un'operazione di controllo. Le barche, secondo il comandante della Capitaneria, occupando quegli spazi hanno messo in serio pericolo la navigazione di terzi considerando che sono veri e propri ostacoli, non segnalati e non comunicabili. Comporta prima di tutto la mancata fruizione da parte dell'utenza di spazi liberi e quindi sono stati immediatamente restituiti per il libero utilizzo. E comporta altresì un problema per la sicurezza della navigazione perché sono degli ostacoli non segnalati e comunque posizionati all'interno di aree che sono di per sé destinate alla circolazione, alla navigazione delle barche ma anche per consentire allo Stato di poter introitare ciò che fino ad oggi non gli è stato consentito. Ricordiamo infatti che il posizionamento di barche deve avvenire solo ed esclusivamente all'interno di aree ben individuate rispetto alle quali lo Stato introita un canone edemaniale. Quindi in sostanza tutto questo non permetteva non solo al porto di essere naturalmente libero da ostacoli ma altresì alle casse dello Stato di non poter incamerare quanto dovuto al punto di essere reale. E proprio queste soste abusive sono state la causa del sequestro delle barche che hanno messo nei guai i proprietari delle imbarcazioni denunciati all'autorità giudiziaria per occupazione abusiva.